Ciao ragazzi bentornati sul canale Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Tomb Raider Mi invito subito a iscrivervi sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch Oggi continuiamo con la nostra avventura in Tomb Raider con la nostra Lara Croft E eravamo arrivati qui, ora in poca non lo porto e sinceramente non ricordo al 100% Dove eravamo, l'unica cosa che so è che però abbassano il volume del titolo Allora Qui ci indica di andare, ok allora raggiungiamo il posto Sì se non sbaglio l'ultimo episodio eravamo assiedati, assediati Eh Cazzo mi ha beccato No che cacchio fai Come ti permetti Non pensavo che mi beccasse Allora Recuperiamo i materiali che ci servono da questi cadaverozzi E continuiamo la nostra avventura Allora qua ragazzi se non sbaglio è così si faceva Yes Olè E ora Ah Olè Qua se non sbaglio No si faceva così ma si faceva così Pam Riprendiamoci l'arco ragazzi perché io non vorrei dire nulla ma l'arco Secondo me È una No È una delle migliori armi Eccoci Cavolo ci è mancato un cuoco Mi senti? Ci sono Sam Stai bene? Cosa vogliono da me Lara? Una prova del fuoco La prova del fuoco? Ascolta Sto arrivando Ti tirerò fuori da lì Aiutami Lara Ti prego Promesso Promesso Sam Oh no Sam Sam Ecco Promesso Promesso Lasciatela bastardi Lasciatela Dai dai andiamo a recuperare questa tizia Lasciatela Lasciatela Ok Tanto l'avranno già stuprata dieci volte Dai Quindi Meh Olè Ok Munizioni L'avranno già Scendiamo Olè Eccoci qua Eccolo Non abbiamo qualcosa da lanciare Se facciamo tipo Ustì Facevo il triplo colpo alla testa L'attenzione Pericolo Vieni fuori dai Eccoci qua Ce ne sono altri raga Perché ho sentito Tutto bene lassù Questo sicuramente serve a qualcosa Ma non so che cosa Come ho fatto a non prenderlo Ok Olè Mamma mia ragazzi Che cecchini Vieni fuori Tieni con la k Lì dai Ma quindi No No Quanti cavolo sono No Madonna raga sto L'ho preso Mi ho fatto fare tutti Mamma mia ragazzi E che sono fissato Recupera Recupera tutto Che ci serve Il materiale Perché si può potenziare Olè E qui adesso Che bisogna fare Puoi togliere sto coso Per favore Ok Ma perché fai Solo luce Di qua si può salire Sì Possiamo recuperare Eh ma Non ci Ridaglie Niente Mi tocca attraversare Eh ci trocca attraversare Vabbè ti bagno un po' le Le chiappette Ecco Opla Ecco Che cos'è? Che cos'è? Non si capisce niente Ecco Perfetto Vabbè è un classico Oramai Uh Attenzione si scivola Di qua Sinistra Sinistra Non si capisce niente Raga Famme Non si vede niente Oddio 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 E quindi qua dove devo andare Non si capisce niente Sono finito Oddio Oh madonna Ecco Adesso lo zaino cadrà E Quindi Sì, perfetto Ah, è un paracadute Pam Ma che eccesso di paracadute E ora? Madonna, ragazzi Occhio agli alberi Occhio agli alberi Mamma mia, che cos'è? Ogni volta che inizi l'episodio qua Macello E C'è? Eccolo Ecco qua Perfetto Povera Lara Croft Mamma mia Dove siamo? Chi lo sa? Mezza morta, poverina Ah, siamo praticamente sotto al tempio Trova un kit di pronto soccorso Eh Andiamo a cercare i kit di pronto soccorso Ah, questa è la baracopoli Allora, raga, non c'è A bordo dovrei trovare qualcosa Sull'elicottero, dici? Allora, dobbiamo salire Saliamo Ah, prendiamo altri Ma non ho capito Perché non mi sale qua? Cioè, ce la fai a salire? Ce la faccio io? Fa troppo male Ah, non riesce perché giustamente È addolorante Che tanfo Che tanfo E se non mi sali lì perché c'hai male Siamo nelle fogne della baracopoli Ciao Occhio Poco casino là sopra Poveretto Ma scusa Ma da sopra Ok Che è successo qua? Ok Ci sono Ci siamo seccati tutti No, dai Disattiva sto cosa Occhio Attenzione, attenzione, attenzione Vabbè ad essere qua l'elicottero comunque Opla Ok Ok Ah, ma è un mitra questo Pensavo fosse un pompa O tipo un cecchino Colpo singolo Ah, ok Quindi adesso bisogna prendere Panna E cosa fai? Lo tiri? Ah, ok Per aprirlo Pensavo che vorrei tirare l'elicottero intero Vuoto Classico Lo sto facendo? Lo sto facendo? Ah, perdonami Ah, si vuole Cauterizzare la ferita Ah no Accendino Eh, si se la vuole Cauterizzare Si scalda la ferita Ecco E' fuori E' fuori cosa qua E' fuori cosa qua A te? Sì Precce incendiarie Per mine Se sono le frecce incendiarie Rot Rot, mi senti? Rot Lara, stai bene? Sto bene Non si direbbe Sto bene Dove sei piccola? In una specie di baraccopoli Vicino al palazzo Io sto ancora scendendo Come fai ad essere già lì? Longa storia Da qui vedo la città Sei vicino a quel grosso cancello? Lo sto raggiungendo È la straniera Ecco Fuoco, fuoco Bravissima Olè Due Due Posso tornare indietro? Sì Grazie Vabbè Eccolo qua Ascolta E' morto Colpo la testa Quanti cavolo sono? Basteria Che che me l'ha lanciata? No, non l'ho preso No, non l'ho preso Perché non lo spari Maledetto Cambia arma Per favore Ok Oh, adesso Certo Chi è questo qua? Iron Man Mamma mia Ok Ok raga Ci siamo ora Qui abbiamo il falò Abbiamo un sacco di materiale Abbiamo un punto abilità Primo Quindi io direi di andare a sbloccare subito il punto abilità Indossavano le stesse uniformi della guardia tonanti Ed emettevano suori disumani Senti come parli Lara Sembri tuo padre Allora Ok Dovevamo prendere Vi ricordate ragazzi Che ho fatto tutto questo slot Per poter sbloccare Lara Posso parlare? Sì Sì Adesso la salviamo Vi ricordate che ho sbloccato tutto questo slot Per sbloccare appunto Il controattacco In schiavata Sì In schiavata Cheat Comunque Adesso lo possiamo apprendere Ok Primi B per schivare Poi Y Al momento giusto Questo controattacco Più che altro serve ragazzi A quelli che hanno Tipo le armi molto lunghe Oppure Oppure quelli che hanno gli scudi Ed è molto comoda Quindi punti Abilità Non ne abbiamo più Però abbiamo molta attrezzatura Che possiamo sfruttare Allora Qui abbiamo Il nuovo arco Che però L'abbiamo sbloccato A 50% E per Perché mi dice 50% Che l'ho sbloccato tutto Vabbè Comunque Poi andiamo a vedere Il fulicio a pompa Il Sì Fucile a pompa Questo cos'è No vabbè Il fucile a pompa Non lo utilizziamo mai Raga Questo non si può Utilizzare Beh piuttosto Allora Il fucile automatico A questo punto Allora Questo qua cos'è Mita Trova due componenti Di questa Allora Calcio imbottito L'imbottitura Aumenta la stabilità Di fase Ok Doppio caricatore Questo Ce lo metterei Poi Espulsore Levigato Aumenta la cadenza Di fuoco Molto Buono Vabbè A questo punto Ragazzi Allora Ah non si può fare Richiede calcio imbottito Questo è il freno di bocca Ok Perfetto Ok raga Niente A posto così Ok Noi ci salutiamo qua ragazzi Altrimenti il video viene troppo Troppo lungo Io vi ricordo E vi invito Di seguirmi Sulla pagina Instagram E Di seguirmi Anche sul canale Twitch Ciao ragazzi Ciao